Prova di grande unità, di forza, di determinazione del Partito Democratico il gran bel discorso di Matteo Renzi che prima della scelta del nome che noi voteremo ha spiegato le ragioni per cui questa scelta, questo nome, questa determinazione servono al processo di cambiamento di fiducia che noi stiamo portando a fare e quindi questa è la scelta determinata del Partito Democratico Quindi sono un nome che ha messo insieme a ricompattato il Partito Democratico Sì, ma io credo che non solo il Partito Democratico ovviamente aspettiamo di conoscere quelle saranno le indicazioni degli altri partiti però mi pare che con una scelta sia già Sela, che è un nome che voterà e penso che sia un nome di grande autoregolenza e di grande beneficio per le inscrizioni per l'interno del Partito Democratico E come procedere? Stella Bianca per il primo testo Routini e se arriverà il risultato alla quarta domenica? Sì, Matteo Renzi ha detto che Sera è convinto che sabato mattina potremmo chiamare sempre mattarà il Presidente E' come, perché non sono permetta molto? Sentite休anto неё realizando il caso di Grütti Grazie a tutti